Signore, io non voglio ne applausi, è una questione anche di conseguenzialità in senso a quello che io penso a me stesso e a quello che sto cercando di fare. Io ripetisco la mia proposta iniziale, tra gli altri che avete avuto il mio e cerco di spiegare il senso a me stesso. E mi dovete prendere il massimo e riacciarvi a quello che ha detto. Signore, io non ho anche uomo, ma non ho ragione, ma non ha mai avuto la fondazione. Senza che ci sono i 15 minuti di Dottorzio? No consigliere per conoscere il Dottorzio, il Dottorzio non c'è una legislazione holografica, ma ci sono altri consigli del Dottorzio, che non sono un grattisimo, e... le dettate da portare la Fattoria Dottorzio, allora io gli parlo. E' con il tema di essenzialità, e che è di da 100 anni. Sempre con l'advento allegato alla Ministra, io chiedo che oggi un atto di chiuso, una volontà politica, poi si dice che la volontà politica deve essere a decidere, a prendere un da quanti mettiamo, allora guarda che ogni volta sarà una mia o una mia imparità, tra ogni volta che si dice, noi studiati dobbiamo trovare la città, per il Messico, perché noi non vogliamo fare altro, poi darà una studiore proprio in cielo, però una città, una delle città che non si chiuncia, non la si troverà mai, allora si dice, poterò quando si uscita o no, si dice, poterò, poterò, allora perché trovare una città su questo atto, sarà difficile, imparerò anche io, ma sarebbe, allora io vi faccio la parola, vediamo al lato di me, vediamo che cosa, invece, come che eravamo tutti gli anni alla conferenza di cammini un po' di adulto, e la parola si è vero, se vi facciano, che era detto, arriviamo in consiglio, con questo ordine del giorno, praticamente, presegimento di un'approvazione regolare, era questo il segno di tutti quanti, io non dispongo del genero, il scopo del funzionario, il scopo di un esimerk, quindi è dovere, io come professione, tu vuoi anche dire, da le parti di domenica, da le parti di domenica, da l'epoca, da l'epoca e l'epoca, da l'epoca, da l'epoca, da l'epoca e l'epoca, da l'epoca e l'epoca, da l'epoca Questo è il Dio, il testo, quando non sbagliare, quando non avevo idea di parlare di quella che è la giurata, questo è però visto che quello è preventivo di essere la giurata, che è ovunque. Allora, oggi si può darvi un corredore, non c'è tanto che vogliamo essere il corredore, è inutile che lo chiamo oggi, si prende il posto del interacolo, che abbiamo fatto più, che da dentro il interacolo, che non si individuava la certa cosa che ho avuto, che non bisogna andare a caricarmi, si viva la partita di altra parte, basta girare l'occuardo, ha voluto e la capola, qui dietro, così da poter sentire, e vedere come sta facendo, oh, ma sono signori e padroni della patente, perché hanno fatto qualcosa che forse ci può chiedere, che ci dà aiuto e a ridere di crisi, allora io direi, l'altra volta, hanno il rischio da noi, e quando ci siamo avvoltati, io non c'è nessuna percorso a dire di me, io sono vostro, ma non c'è nessuna percorso a dire anche quello di me, ma non voglio che questi, da quanti possano essere, possono rientrare in questa, che abbiamo la taratonia, non c'è nessuna percorso a dire di me, non c'è nessuna percorso a dire di me, ma dice che non si vuole votare perché non c'è nessuna città, non si vuole votare perché non si controlla la macchina portata, se ne vedete, se ne vedete, sono alcune che hanno già avuto il testato poerissimo, allora ci seguiamo, lo vogliamo fare o non lo vogliamo fare, se non lo vogliamo fare, stelepidetteci anche in Italia, quel già, e se ne pensi anche la luce, a fare il regolamento di un rischio, con quel regolamento alla mano, e pronto a risolvere i paesi lì, si va, 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 e il giorno dopo, stiamo già a ripartire le pratiche, caso per caso, partendo da degli uccelli, fino a degli uccelli, con le quali, credo, in finale, i mobili che ci possono essere utili, i mobili che non ci possono essere utili, che ne ha portato, e che si va, si va, si va, si va, se ne vengono, e che quello che ne ha, se ne pensi anche una posizione, non penso, per senere, se ne lo siediti, anche, se non lo siediti, se lo contesta con qualche verità, e si, sicuramente, pieni di prendere la responsabilità, o mentre li ha prendiamo, ogni pausa che ne ha avuto sino un'arma, cosi era la missione che era solo Statista, che parte dalla sua coscienza punta. State anche a un'indicazione di maggioranza, quindi non è sempre che non è un'indicazione che si vende di un'indicazione partidica perché sono un matato, ma faccio partire, se io partiremo a essere a favore, contro l'attualismo, contro la mente del genere, contro la preparazione, contro la preparazione, contro la preparazione, contro la preparazione, e per le preparazioni, io ho distrito alla mia voce, io ho detto di coraggio questo tipo di intervattimento e per questo poterlo contro qualche attenzione che si stacca bene dalla mia voce, che si introdusse, lo potrai anche dicendo che se si individui a queste posizioni di sottotà, quando dice che in piedi dopo si intende la commissione, si dice che 10 giorni viene il progettamento e poi quindi con questi 10 giorni si avvanno in grado delle tasse che non avresti e che è in grado, hanno stato l'età, però mi devo dire che, in considerazione di tutto ciò che su questo minima deve essere libera, e quindi, io voto contro qualsiasi 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 è il problema e quindi, vi penso, dal momento in cui abbiamo il regolamento che è un regolamento di un padre, quindi, già lo posso dire, tranquillamente, sono favorevole perché io dico che il padre è un padre che è un padre che è un padre tempo ha fatto il supporto eh, io sono convinto che se il portale voglio fare il progetto di il regolamento noi facciamo di adattare l'analizzare la casa che si fa la mi piace che si fa la fine se passiamo le pratiche correttamente si hanno 부ra così io lo passo, non ho tante cartelle, non ho tante figlie, ma non ho tante figli, e decide di tutta terribilità, ci fate questo, questa casa non può essere bella, questa casa è bella, e quindi veramente eseguata e come i figliati che vengono compi, Grazie.